Ciao a tutti, oggi mi trovo su Warzone 2.0 e andremo a scoprire come andare a sblocare l'M13 nella DMZ. Prima di iniziare mi invito tutti a mettere un bel mi piace a questo video, se avete le vostre domande fatele qui sotto nei commenti. Tanti sono stati i contenuti aggiunti a Call of Duty Modern Warfare 2 con l'arrivo della nuova versione del Battle Royale secondo Activision. Sono state infatti aggiunte delle missioni segrete che possono essere completate durante una partita in Warzone o nella nuova modalità DMZ. Oggi andremo a parlare proprio di questa zona che vi permetterà di portarvi a casa il fucile d'assalto M13. Sarà quindi impossibile da ottenere in diverso modo, almeno per quanto riguarda il resto della stagione 1. L'M13 è una delle armi più iconiche della serie e si presenta a diverse build che non vediamo l'ora di andare poi a scoprire, magari vedremo insieme qualche nuovo video. Dunque allora è stato introdotto anche il nuovo sistema di personalizzazione delle armi e è stato approfondito opportunamente in questo primo mese di gioco. Per sbrucare l'M13B sarà dunque necessario avviare una partita in DMZ, trovarlo ed estrarlo tenendolo tra le due armi principali o all'interno del proprio zaino, meglio se sarà medio o grande. Ma dove si trova? Basterà recarsi il più velocemente possibile nella zona radioattiva segnalata sulla mappa. Ora andremo a vedere dove si trova praticamente il cerchio giallo col simbolo più hazard magenta in cui si nasconde un mini boss che userà proprio l'M13 per andarsi a difendere. Dunque allora il punto in mappa è questo qui segnato di giallo, vedete dove c'è proprio la freccia e come vi dicevo dovrete andare ad affrontare un mini boss. Dunque prima di correre nella zona però vi devo fare alcune raccomandazioni. Dato che vi troverete in una tempesta radioattiva è consigliato entrarci muniti di maschera anti gas. Molti consigliano di entrare nella tempesta a bordo di un veicolo e investire tutti ma bisogna valutare se nella zona sono presenti o meno edifici nella quale il boss possa poi nascondersi. Se entrate senza maschera prenderete solo una leggera quantità di danno ma potrebbe essere fastidiosa considerando il fuoco incrociato dei diversi bot. Non è da scludere la presenza di altri giocatori che si precipiteranno nella zona per mettere le mani appunto sul vostro stesso obiettivo. Il mini boss è facilmente identificabile dato che sarà l'unico a indossare una tuta gialla anti radiazioni. Una volta ucciso raccogliete il suo M13B e correte verso l'estrazione più vicina. Dunque se non siete riusciti a prendere l'arma perché magari qualche altro giocatore se l'è presa ricordatevi che è possibile sbloccare l'arma anche andando a sottrarla a un altro giocatore nemico. Solo il giocatore che avrà in mano l'arma in questione durante l'estrazione otterrà il sblocco dell'arma. Per non rifare lo stesso giro ogni volta nel tentativo di aiutare gli altri membri della squadra a ottenere l'arma basterà che il giocatore fortunato rientri in DMZ con quell'arma e che la passi agli altri permettendo loro di effettuare l'estrazione. Non importa se si tratta proprio del M13B speciale del boss, un M13 qualsiasi anche di base sarà sufficiente per garantire lo sblocco in armeria. Dunque allora questa è la tattica più facile per riuscire a ottenere questa arma. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete vedere qualche altro video su questo gioco insomma commentate e iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Ciao a tutti e alla prossima!